ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi faccio un video in collaborazione con l'azienda outdoor tide che mi ha gentilmente omaggiato di questo bellissimo righello per il diamond painting infatti in questo video vi farò vedere come si utilizza questo righello qui ma prima di iniziare vi volevo invitare ad iscrivervi al mio canale attivare la campanellina per non perdere i prossimi video di seguirmi sui miei social come instagram e facebook e se volete potete andare nel nostro gruppo mio e della mia amica per quanto riguarda il diamond painting se vi piace il diamond painting li potete postare i vostri lavori i vostri video del diamond painting così possiamo anche aiutarci a vicenda e sostenerci in questo bellissimo hobby che è il diamond painting e se vi piace il mio canale e volete sostenerlo qui sotto nella barra del video ci sta questo curicino qui con la scritta grazie se voi cliccate lì potete donarmi qualcosa mi farebbe tanto piacere così da ingranare un po il mio canale e mandarlo avanti qui a fianco vi lascio un video dove vi fa vedere dove sta questo curicino così potete andare a scegliere la cifra da donarmi e potermi sostenere anche così ne sarei tanto grata e se volete potete condividere questo video nei vostri vari social ma bando alle ciance iniziamo subito a vedere come si utilizza il righello per il diamond painting e come vedete è fatto così con tutti questi buchetti non proprio rotondi ma sono quadratiche però hanno le punte tonde perché in mezzo ci sta preciso preciso il brillantino del diamond painting allora vi spiego in breve come funziona questo righello e quanti ce ne sono perché questo righello non è solo questo ma ci stanno varie misure perché questo è una misura poi ce ne stanno altri di varie varie dimensioni allora sul sul primo video che vi feci vedere lo spacchettamento diciamo di questo righello vi dissi che non ero molto diciamo esperta perché ovviamente era la prima volta che lo utilizzavo e come vedete qui ho fatto una prova con questo righello e devo dire che mi sono trovata benissimo come vedete i brillantini sono perfettamente allineati rispetto a come come li mettevo io che magari un brillantino andava sopra all'altro all'altro simbolo oppure uno andava sotto andava sopra insomma erano tutti storti e da lontano non si nota tanto ma da vicino si notava parecchio e quando ho visto su internet delle ragazze che utilizzavano questo righello ho voluto provarlo anch'io per essere anch'io un pelo più precisa magari come vi dissi volete venderlo volete regalarlo almeno l'effetto è più bello rispetto a tutti i brillantini storti e questo ed entra in gioco appunto questo bellissimo righello allora ci sta questo qui che è da 14.1 mm dopo ve lo lascio qua sì perché questo qui va in millimetri dovete contare qui una misura di 14,1 mm perché questo qui è i righelli dipendono anche dai millimetri che distanziano una perlina da un'altra un brillantino da un altro poi ci sta quello lì un po più grande io vi lascio qui un piccolo vi lascio qui delle foto dove vi faccio vedere tutti i tutti i righelli che ci sono in commercio allora ce ne sta uno che è per i brillantini quadrati questo qua e come vedete ha tipo le stelline poi ci sta quello un po più grande che dovrebbe andar bene io perché non ce l'ho quindi non posso dirvi di preciso come funziona io vi faccio vedere solo quali ci sono questo un po più grande che serve magari per le tele un po più grandi 30x40 30x70 insomma dipende anche dalla misura sempre del bordino e più là magari ve ne farò semmai un altro di video dove farò vedere gli altri righelli che sicuramente li acquisterò in azione e poi ci sta questo qui che ho io in mano questo qui è quello più piccolo tra virgolette e io ho trovato una soluzione diciamo per utilizzarlo allora le questo qui purtroppo ho provato c'avevo una tela in atto insomma che dovevo finire ho provato a mettere il righello ma purtroppo era un 30x40 e i brillantini a una certa si sovrapponevano e ho provato con questo questo qui è un 30x30 come vedete è un 30x30 e i brillantini si allineano perfettamente completamente su tutta su tutto il righello ed è veramente meraviglioso io questa questa parte qui l'ho fatta in un anno secondo o non ho voluto continuare perché volevo fare questo video dove vi facevo vedere come si fa a mettere questo righello io vi lascio qui in sovraimpressione il link di outdoor tide dove potete andare a trovare questi questo righello e tante altre cose ancora se vi servono e qui vi lascio un coupon se volete acquistare qualcosa ringrazio tantissimo l'azienda per avermi dato la possibilità insomma di testare questo bellissimo righello e troverete di tutto troverete il diamond painting i quadri qualsiasi cosa e anche cose per il fai da te insomma qualsiasi cosa quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata perché hanno veramente di tutto io lo adoro quel sito e quindi questo righello è veramente utilissimo allora come vedete è formato da varie parti adesso ve lo metto per così allora qui c'è questa parte qua metallica piena e ci stanno questi spazi allora io questi ancora non ho avuto modo di capire per di preciso a cosa servono però da quando sono andata a mettere i brillantini ho scoperto che comunque queste queste qui sono delle guide quando voi andate a mettere i brillantini potete trovare magari se magari avete una parte un pezzettino scoperto queste guide possono darvi una mano perché partono da un tot di brillantini vedete uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci brillantini e partendo da questo poi uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci vedete sono delle guide queste sono molto comode poi la particolarità di questo righello è che nonostante sia piccolino comunque la diciamo lo spazio da questa parte qui è molto ridotto ha anche una guida in questo modo qui cioè praticamente è lo spezzone dei brillantini che sono in questa parte qua ve lo faccio vedere sul bianco se no non si vede eccolo qui e parte anche da questa parte qui quindi se voi dovete fare una parte questa parte qui e dovete unirvi a a questa alla parte che avete fatto e la parte che dovete ancora fare basta che utilizzate questa parte qua e lo sovrapponete allora all'inizio per mettere i brillantini voi potete anche metterlo per così non c'è nessunissimo problema cioè potete metterlo in qualunque modo volete potete metterlo così potete metterlo per così va bene qualsiasi in qualsiasi modo basta che riuscite ad allineare le lettere ai brillantini agli spazi diciamo questi vuoti allora io ho messo ho già fatto questa parte qua perché volevo ero un po' curiosa volevo vedere come veniva il lavoro e devo dire che è perfetto letteralmente allora se vuole allora io ho iniziato così ho messo il righello in questo modo qua ho messo il adesso vi faccio vedere un po' in sovrapposizione ecco qua vedete non so se riuscite a vederlo ve lo ingrandisco un po' eccolo qui come vedete qui i brillantini proprio vengono fuori dal righello perché si sovrappongono completamente e poi ho per andare a fare questa parte qui l'ho ribaltato in questo modo qua semplicemente l'ho ribaltato ho messo questa guida qua dove c'è lo spezzone dei la metà dei brillantini l'ho capovolto e l'ho stretto l'ho stretto all'interno dei brillantini in questo modo qua come vedete e lo potete fare anche sulla parte vuota e se io metto questa parte qua sopra cioè faccio partire il brillantino direttamente da qui vi rimarrebbero questi simboli qui sovrapposti al metallo e non potete metterci i brillantini quindi vi spostate un po' più qua oppure se è anche la stessa cosa anche qua come vedete tanto è la stessa cosa se volete potete anche sovrapporlo in questo modo qua come vedete basta che le lettere entrino perfettamente sui riquadri diciamo i quadratini che stanno sulla sul righello e li stringete un po' bene in maniera tale che vengono precisi e lo schiacciate in questo modo qua e c'è la colla che vi tiene fisso il righello quindi potete tranquillamente partire con il mettere i brillantini adesso vi faccio vedere come mettere i brillantini faccio una parte un pezzettino e poi vi faccio vedere come si toglie il righello perché c'è un modo particolare io lo vado a mettere al contrario mi sono sbagliata perdonatemi preferibile metterlo per così io ho fatto una prova e mettendolo dall'altra parte non riuscirei a tirarlo perché qui abbiamo il seghettato diciamo la guida dei brillantini tagliata invece qui abbiamo una parte di metallo che è più facile sollevarla quindi io parto direttamente da questa parte qua così vado a mettere i brillantini cerco di posizionare i brillantini in questo modo qua in maniera tale che vanno tutti centrati vedete proprio sono perfettamente centrati le E sono tutte centrate adesso prendo una penna per il diamond painting e vado a prendere una semplice così vi faccio vedere bene come funziona e io ho qui davanti il simbolo E qui ho il mio contenitore con i brillantini vado a prendere un brillantino faccio vedere così prendere un brillantino un attimo che non c'è più la cera prendere un brillantino e vado a posizionarlo ve lo faccio vedere in questo modo qui così e come vedete non so se avete sentito fa un click che poi oppure secondo me chi gli piace la smr è molto piacevole a me piace tanto questo click che fa quando andate a pressare il brillantino mi raccomando ovviamente non pressatelo forte ma comunque cercate di farlo di sentire anche il click che il click vi aiuta a capire se il brillantino è entrato all'interno del del riquadro perché sennò vi fugge quindi fate così e sentite che c'è il click questo click vi aiuta proprio a capire se il brillantino è entrato oppure no è andata avanti così ecco qui così ecco qui come vedete sono perfettamente allineati e si può utilizzare anche questi qui con più brillantini se voi avete questi queste penne diciamo con più brillantini si può tranquillamente utilizzare io mi ci sono trovata bene infatti questa parte qui l'ho fatta con questo tipo di penna qui adesso vi faccio vedere come andate a prendere i brillantini con la penna in questo modo qui questo adesso è da sette brillantini e lo posizionate sopra così e come sentite sentite proprio che c'è un click e se per sicurezza io vado a spingere un pochino in maniera tale da farli entrare all'interno dei dei riquadri che sono sopra i simboli e veramente mi sono trovata benissimo il risultato è bello liscio adesso facciamo insieme questa parte qui poi vi faccio vedere come staccare il righello come vedete qualche volta la penna non mette perfettamente i brillantini allineati però voi con l'altra parte piano piano li andate a spingere e il gioco è fatto e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.